Sono 4.742 le persone che tra gennaio e lo scorso 18 luglio si sono rivolte ai centri per l'impiego in provincia di Lecco. Prosegue infatti l'attuazione del programma Goal, garanzia di occupabilità dei lavoratori che, in sinergia con gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro del territorio lecchese, offre supporto gratuito a chi è disoccupato e necessita di servizi di orientamento, qualificazione professionale e accompagnamento alla ricerca di un nuovo impiego. Il programma Goal è attivo in Lombardia da giugno del 2022 grazie ai finanziamenti del PNRR. Delle 4.742 persone profilate in provincia di Lecco, 4.639 sono quelle che si sono rivolte ai centri per l'impiego di Lecco e Merate, ovvero il 98%. Secondo gli obiettivi assegnati da Regione Lombardia, a fine 2023 saranno 5.769 i disoccupati, giovani o adulti, che aderiranno al programma. 2.138 aderenti a Goal sono stati presi in carico per l'attivazione di una dote, ovvero un pacchetto di servizi gratuiti. 841 le doti formazioni attivate, che consentono la partecipazione a corsi di formazione, in gran parte già iniziati o conclusi, in parte ancora da avviare. Dall'avvio dell'attuazione del programma Goal in provincia di Lecco sono 11.291 le persone che sono state profilate dai centri per l'impiego di Lecco e Merate, di cui 2.732, pari al 24% del totale, hanno scelto di essere prese in carico da uno dei 18 operatori accreditati privati che hanno stipulato l'accordo di partenariato con la provincia di Lecco. Dopo i buoni risultati registrati lo scorso anno, commenta il consigliere provinciale delegato al centro impiego Carlo Malugani, anche nel 2023 l'attuazione del programma Goal in provincia di Lecco sta procedendo positivamente. L'offerta formativa, di qualità, mira a promuovere corsi in linea con i fabbisogni di competenze richieste dalle imprese e nei prossimi mesi lavoreremo per potenziarla ulteriormente negli ambiti in cui risulta necessario. Scalta il piano Ferragosto. In vista dell'avvicinarsi della fase clou della stagione estiva, vertice in prefettura fra le istituzioni per valare un piano in grado di garantire alle chiesi turisti di godersi la bella stagione nel modo più tranquillo e sicuro possibile. Il perfetto Sergio Pomponio ha chiesto ai rappresentanti delle forze dell'ordine della città capoluogo di intensificare i servizi di vigilanza e prevenzione già dal prossimo fine settimana. A fianco dei controlli sulla viabilità dunque un giro di vite sulle situazioni che, considerato il maggior afflusso, potrebbero creare le condizioni per fenomeni criminosi. Durante il vertice è stata dunque posta attenzione alle misure di controllo del territorio, specialmente nelle località a maggior vocazione turistica o in occasione di manifestazioni con un notevole afflusso di persone. In particolare, nelle zone della provincia dove si registra la maggior concentrazione di persone, soprattutto più giovani, le forze dell'ordine saranno impegnate nella prevenzione del contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché nelle verifiche di tipo amministrativo presso gli esercizi pubblici ai luoghi in cui si svolgono attività di intrattenimento e di spettacolo. In conclusione dell'incontro, il prefetto, nel ringraziare i presenti per i contributi offerti e per la consuetta collaborazione, ha poi esteso gli apprezzamenti a tutte le forze di polizia che nei prossimi giorni saranno in campo al massimo della disponibilità di organico, con grande impegno e spirito di sacrificio per presidiare il territorio con l'obiettivo comune di tutelare la sicurezza delle persone e la salute pubblica. Tiene banco il Consiglio Comunale. Ecco la tragedia di Bubacar Darboel, 18enne richiedente asilo annegato nel lago a largo della malpensata, mercoledì 19 luglio. Dai banchi della maggioranza un appello a ritrovare un senso di umanità dopo quanto accaduto. Basterebbe leggere in molti troppi commenti sui social che trasludano odio e disumanità davvero incomprensibile. Concludo con una proposta. Caritas ha lanciato una sottoscrizione per pagare le spese del rientro in patria di Bubacar e dare un contributo alla famiglia. Sarebbe bello se decidessimo tutti assieme di versare i gettoni di presenza di questa sera in questo fondo. Un altro piccolo ma significativo gesto di solidarietà. Dall'opposizione invece richieste di chiarimento soprattutto in merito alle ordinanze in vigore e ai cartelli per dissuadere i bagnanti a refrigerarsi nel lago. Sulla responsabilità per quanto accaduto proprio per la mancata presenza dei cartelli e sulla possibilità che parenti o terzi possano anche chiedere un risarcimento per quello che è accaduto e poi chiarezza sulla presenza o meno di accertamenti da parte della procura o di contatti con il comune per tutto quello che è successo a seguito della tragedia. Risposte fornite dall'assessore alla sicurezza Simona Piazza. Nell'ordinanza del 5 maggio vengono identificate quattro aree come balneabili da parte di Regione ATS. Sono state identificate con la spiaggia di Pradello ovviamente per la parte di competenza lecchese, la spiaggia della Malpensata, scusate l'area della Malpensata, i gradoni per intenderci, il Lido della Canottieri e il Lido di Rivabella. A seguito di sopralluoghi l'amministrazione comunale non ha reputato idonea per un tema di sicurezza la spiaggia della Malpensata, i gradoni della Malpensata. I cartelli per quanto riguarda il regolamento di polizia urbana non erano obbligatori ma abbiamo visto che aiutano a facilitare e a regolamentare il comportamento delle persone, erano già stati chiesti dei preventivi, li faremo in tre lingue, nelle maggiori lingue utilizzate e in più anche con delle immagini, dei disegni che facilitano la comprensione a tutti, mettendo i comportamenti che verranno accettati e quelli che non verranno accettati. Difficile accorgersene ma il problema, c'è anche l'eco per sempre più famiglie mettere insieme il corredo scolastico è diventato un'impresa, c'è chi chiede aiuto ma c'è anche chi non ha alternative a quella di mandare i propri figli in classe senza libri, penne e quaderni. Per aiutare chi si trova in queste condizioni nasce il progetto Zaino Sospeso, a proporlo l'associazione Amici di Pedro che da tre anni raccoglie e distribuisce alle famiglie meno abbienti giocattoli in buono stato. Ci siamo accorti, spiega il presidente Enrico Merlino, che quando c'erano zaini, astucci e materiali di cancelleria le famiglie le prendevano volentieri. L'appello è stato poi raccolto dall'amministrazione comunale e non avere a disposizione il materiale di base, spiegano Alessandra Durante, assessore alla famiglia ed Emanuele Ettore, assessore alla scuola, rappresenta un elemento di disuguaglianza che sommato ad altre fragilità rischia di alimentare una sensazione di inadeguatezza che favorisce nel tempo il distacco dal mondo educativo e l'abbandono scolastico. Se ci pensiamo concludono gli assessori, come comunità educante con un euro e poco più, tutti insieme possiamo fare la differenza nel percorso formativo di un ragazzo o una ragazza, regalando un quaderno, una penna o un righello. All'iniziativa ha aderito anche Confcommercio Lecco. Essere attenti alle esigenze e ai bisogni di chi fa più fatica, commenta il presidente Antonio Peccati, vuol dire farsi promotori di una solidarietà virtuosa e costruttiva. Siamo certi che il progetto Zaino sospeso avrà successo anche in questa occasione. I lecchesi sapranno esprimere la loro generosità. Chiunque può donare materiale scolastico non più utilizzato agli amici di Pedro, contattando l'associazione oppure acquistare materiale scolastico, grembiuli, zaini, astucci, libri, materiali di cancelleria per uno zaino sospeso presso i negozi aderenti. A oggi sono la cartolibreria dello studente di Largo Caleotto, la libreria di braccio di Via Cavour, la cartoleria Cattaneo di Via Roma e l'edicola Cartolibreria Merlo di Viale Adamello. In un'epoca iperconnessa che ci spinge ad essere sempre più rapidi e reattivi, utilizzare in modo consapevole ed equilibrato la tecnologia diventa fondamentale per il nostro stato di salute psicofisica. Proprio per questo negli ultimi anni si parla di benessere digitale. Il tema è stato affrontato dalla psicologa Monica Bormetti, ospite di un evento aziendale di Agomir Gruppo GR Informatica. Trovare il proprio benessere digitale riguarda tanti ambiti della nostra vita, da quello lavorativo alla nostra sfera privata, pensiamo alle nostre relazioni in famiglia, alla nostra salute fisica, perché effettivamente un uso eccessivo del digitale può aumentare anche il livello di sedentarietà per esempio. Quali sono i consigli più utili che lei dà? In generale quello di darsi dei tempi o dei luoghi offline nella propria giornata, anche solo definire i momenti dei pasti la notte e quindi per esempio la camera da letto come spazio in cui il telefono non entra, è già un qualcosa che ci può in qualche modo aiutare, che nella sua semplicità non è per nulla banale. Un secondo consiglio è quello di gestire le notifiche. L'ideale sarebbe togliere il più possibile le notifiche. Se non possiamo, non vogliamo o ci disturba troppo, possiamo per esempio adottare la modalità non disturbare presente praticamente in qualsiasi dispositivo. Un lavoro che diventa forse ancora più importante con tutta quella fascia molto giovane che praticamente è nata con questi mezzi digitali in mano e che forse fa un po' più fatica a trovare questi spazi. Sicuramente c'è anche da dire, però a me capita quando faccio delle attività nelle scuole di trovare anche bambini che magari mi dicono sì è vero quello che mi stai dicendo, però poi io quando torno a casa mia mamma cucina e ha il telefono in mano o mio padre pure eccetera eccetera. Poi sappiamo che i grandi lo fanno per lavoro, ma è dall'esempio che passiamo il nostro insegnamento. Naturalmente i continui progressi tecnologici portano vantaggi e facilitazioni in ambito lavorativo, ma anche in questo caso è utile definire degli spazi. Ne abbiamo parlato anche oggi di quanto essere connessi possa permetterci di ottimizzare il nostro tempo, di ottenere le informazioni di cui abbiamo bisogno anche quando non siamo magari in ufficio e questo è sicuramente il lato positivo. Dall'altra parte il grande problema negli ambiti lavorativi è una difficoltà nel mettere un confine tra quello che poi è il momento del lavoro e il momento della vita privato, perché la mail se ce l'ho sul cellulare la leggo anche in bagno. Grazie a tutti.